Oda Musica 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 Comunque ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua agli Eppils con un nuovo video glitch ragazzi In basica l'abbiamo scoperto da poco Però è un glitch che A volte a me mi entrava gente Nel garage cioè io non li vedevo Ma mi entravano proprio qua dentro Cioè mi sembravano fantasmi Mi sparavano da là dentro che c'è il vetro E mi uccidevano cioè ragazzi io non mi chiedevo Ma questi sono glitchati proprio E ragazzi ho scoperto dopo tantissimo tempo Il glitch come vedete ragazzi Qua ci sono delle elegi perché Mi sembra che tra poco uscirà un altro video Di soldi infiniti E che non lo facevamo da credo Due o tre mesi Allora ragazzi direi di partire subito con il glitch Allora voi dovete recarvi a me dove vedete voi Cioè diciamo qua Fate online vi lascerò il link Dell'attività In descrizione e in pratica Dovremmo avviare questa gara Si chiama TriggerJT TriggerYouTube ragazzi E in pratica dovrete avviarla Ve la lascerò in descrizione Così non avrete problemi a cercarla e tutto Dovrete solo scaricarla Una volta che l'avrete fatto così Vabbè dovrete avviarla da soli Così come se volete fare questa gara Guardate ragazzi dove vi farò sponare Vedete qua dentro ragazzi Bobo con la moto qua e via Dopodiché non è che l'avviate Fate esci e usciamo Guardate ragazzi dove siamo Una volta fatto il caricamento Come avete visto Dalla velocità ridotta ragazzi Cioè guardate dove siamo Siamo dentro l'officina Ragazzi ovviamente qua non si possono usare le armi Non è vero Qua non si possono usare Ma appena andrete Qua ragazzi Vi potrete fare Cioè Potete fare così E sparare Cioè raga Ma sapete la cosa bella di sto glitch È che La gente che entra in questo garage Tipo non so Mettiamo caso che entra un vostro amico nel garage Volete fargli uno scherzo Entrate qua E in pratica voi vedete tutti quanti Cioè Tutti quelli che entreranno dentro questo garage Non il nostro ma In quelli che hanno questo garage Quindi ragazzi È davvero una cosa Fighissima Ma veramente figa Quindi ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Vi vediamo domani con un prossimo video E Bella Bella